piccolo lasciamo lo stare no 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 E' un maschietto piccolino che rischia molto ma ce n'è un altro Ci siete? Ah si? No no è dentro è un fiore guarda qua un altro Egidio stiamo pensando a te E' tutto per arrivare qui e magari poi non pescare neanche E poi magari non pescare neanche Grazie a tutti. 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 Credici? Io mi sono lanciato, io non toccavo prima. Devi credere.